a un difensore questo ha dato la possibilità alla squadra di difesa in questo caso il Brescia di poter ripartire è un gran gol da lontano va a bersaglio Leonardo Binch che dunque si fa perdonare rispetto all'espulsione Binch ha trovato negli ultimi anni della sua carriera nuovo coraggio nel cercare le conclusioni questo farà bene anche la nazionale ma soprattutto dimostra la piena maturità di un talento che rischiava di non sbocciare mai assolutamente ha preso una comincia a prendere molte responsabilità lui sempre a livello di difesa ecco lo svettava lo vediamo sugli altri che adesso anche in fase di